Evidentemente i numeri 10 rappresentano una delle debolezze del volto nuovo in ambito dirigenziale, ovvero Roberto Pighi, che ieri a Fiorenzuola ha portato niente meno che un campione del mondo. È toccato infatti a Giancarlo Antonioni vestire i pani del testimonial d'eccezioni di un segmento della società valdardese, che sta particolarmente a cuore al club del presidente Pinalli, il Vivaio. Attualmente ricopro il ruolo, diciamo, istituzionale in federazione, dove seguo il nazionale giovanile. E quindi credo che il miglior posto dove poter venire era proprio questo, oltre all'amicizia che mi lega a Roberto, al presidente, ma anche a altre situazioni calcistiche. Antonioni, ma con tutto quello che sta accadendo intorno al calcio, lo sente ancora suo questo mondo? Sono un po' distaccato da questo, anche se chiaramente ci lavoro dentro, però, insomma, sugli ultimi avvenimenti successi c'è un po' da preoccuparsi. La chiacchierata è costantemente interrotta da persone di ogni età, che vogliono una foto ricordo con un autentico mito del calcio di casa nostra. Gongola Roberto Pighi, al quale chiediamo novità che riguardino il Fiorenzuola, ma esce poco o nulla dalla sua bocca in ambito mercato. Appena è arrivato in società, tutti ad aspettarsi nuovi acquisti, e per ora solo cessioni, solo a D. Ma vedrà che, come ci vede tutti abbastanza carichi e sereni, annunceremo giorni tre o quattro acquisti già sostanzialmente definiti di assoluto... Giocatore di categoria O che arriva? Esattamente, che potrebbero fare anche la C. Invece oggi si celebra un altro tipo di attività della Fiorenzuola, che è un fiore all'occhiello per voi? A Fiorenzuola si vive, si respira e si lavora in una direzione dove problemi di alcun tipo non ci saranno mai. Piuttosto si rinuncerà magari in qualche occasione a qualche nome. Visto che era amico di Antonioni, lei sarà un appassionato di numeri dieci, presumo? Ma guardi sì, perché comunque avevo annunciato anche, se si ricorderà durante le prime trasmissioni, un altro grande dieci ancora in attività. Lo chiamano il pupo a Roma, il pupone. Grazie. 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 Grazie.